Sono Monio Vadia, vorrei rivolgere un caldo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Alba e un saluto particolarmente intenso a Dieghito per le sue conduzioni e lasciare un mio pensiero per ciò che è più importante in questo mondo, la pace. È un pensiero che prendo da Nelson Mandela. La pace non è un sogno, ma per costruire la pace bisogna saper sognare. Grazie. Grazie.